L'abbiamo già visto, l'abbiamo già conosciuta ma adesso la vogliamo veramente qua con noi Edita Pucinskaite Edita ha vinto il Tour de France nel 98, i campionati del mondo su strada 99, Giro d'Italia 2006-2007 Ha partecipato a tre Olimpiadi, 2000 Sydney, 2004 Atene, 2008 Pechino Chiude la sua carriera da professionista con quasi 100 vittorie È così Edita, grazie È così, e come abbiamo fatto a costruire questa carriera? Ma credo forse non è il momento di raccontare tutta la mia carriera, tutti i miei inizi perché è una storia abbastanza lunga Però io sono partita come una piccola podista, sono lituana, di origine lituana, è nata nella parte settentrionale della Lituania Partita come una piccola podista prometente, in seguito mi sono avvicinata al ciclismo E sono cresciuta in un istituto dello sport, una polisportiva per i ragazzi più promettenti del paese E poi entrai nella nazionale lituana, giovanissima, ai campionati del mondo 1995 a Duitama, in Colombia Con cui stai il bronzo, in seguito sono stata chiamata per un gruppo In quell'epoca nascevano prime squadre professionistiche femminili Perché professionismo femminile ciclistico non esisteva prima Le donne correvano con le proprie nazionali E proprio in Italia, in Veneto, è nata una tra le prime squadre In cui io subito, giovanissima, come un'atleta promettente, insomma, futura Entrai a fare parte di quella squadra E da lì poi ho costruito tutti i miei successi in Veneto Poi ho corso in tutto il mondo, ho girato varie squadre E ho fatto una lunga carriera Ho fatto una lunga carriera mettendoci sempre tutta la passione, tutto il cuore Però anche dando tantissima attenzione a salvaguardare proprio il cuore Quindi non soltanto nel senso poetico, metaforico che mi ha servito tantissimo Pensate che io ero addirittura una poetessa molto emergente E per il mio primo momento di gloria addirittura ho avuto come In seguito a un concorso di poesia vinto Tutto questo mi ha aiutato tantissimo Perché ho scelto uno sport e in qualche modo anche in grato Sì, basato sulla resistenza ma su tantissima fatica Il ciclismo fa parte di quei sport, chiamiamo quasi bastardi In cui bisogna insistere, osare, non mollare Sport durissimi E quindi di fronte alla domanda chi me lo fa fare Dovevo far nascere questa poesia Ecco, lì probabilmente mi è servito tantissimo il cuore Contemporaneamente io, secondo me Secondo tutti i detti lavori E questo che mi valorizza Non ho chiuso la carriera come soltanto un atleta che ha vinto il Tour de France Due giri d'Italia e i mondiali Ma è quello che volevo io Fare una carriera credibile Cioè al fianco dei 18 giri d'Italia disputati Sono sì due giri vinti ma c'è un secondo posto in classifica generale Quattro terzi e tre quarti e via via Quindi io per un paio di decenni sono riuscita a essere nel top ten In classifica mondiale e in classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale In classifica UCI E questo che mi ha, diciamo Credo che il mio valore dell'atleta è più questo Non singole vittorie E diciamo così Per far questo forse è un caso Non ho mai avuto un problema cardiaco E non ho mai avuto una patologia Sì forse è fortuna Ma forse no Perché a pensarci, no? Tornando indietro Ho avuto anche una fortuna di incontrare dei tecnici bravi Bravi, umanamente bravi Che da me atleta Non chiedevano soltanto il risultato immediato Ma c'era tantissima multidisciplinarietà innanzitutto Da quando ero piccolina E soprattutto tantissima attenzione al cuore Addirittura ci dicevano Date del lei al cuore Perché è la parte più importante di noi atletici Cuore, gambe Dove gambe non arrivano Poi ci mettete il cuore Non esattamente direi Perché il cuore serve proprio per sopportare Per far nascere passione E per non mollare nei momenti difficili Cioè serve per sopportare la fatica Giorno dopo giorno Nei momenti in cui siamo in fuga O sotto la pioggia Battente Stiamo per affrontare un passo alpino E magari c'è la Fabiana Luperini In seguito al quattro giri Tour de France vinti Che non vuole assolutamente rendersi E vede questa ragazza Che l'ha strappato la maglia gialla E ti sta massacrando a scati In quel momento ci vuole la testa soprattutto Testa che ovviamente comanda le gambe Comanda il cuore Comanda il tutto E quando le forze stanno abbandonando Sì serve il cuore Serve cuore e testa Insomma una simbiosi E io credo che Diciamo Fare Tutta questa tensione Sin dagli inizi Per quanto riguarda la preparazione Blanda Invernale Ci dicevano Ci hanno insegnato Che per costruire edificio Bisogna partire dalle basi E fare tantissimi chilometri A ritmi bassi A ritmi bassi Fare Sì riscaldamento prima di gara Ma anche De affaticamento Mi ricordo sono arrivata in Italia Dopo tutta questa Bagaglio di mie esperienze In cui credevo fortemente Qui ho incontrato altri Altri tecnici Altri preparatori Che hanno bocciato tutte queste mie teorie Dicevano Ma voi lì lituani Andate Ritmi blandi Ritmi blandi Poi arrivano le gare Non siete mai pronti Ci vuole il tempo Sì ho capito Ma io appunto al giro d'Italia Il giro d'Italia femminile è a luglio Quindi in inverno Ritmi blandi E diciamo così Lavori più che altro Su potenziamento muscolare Lavori ad altri regimi cardiaci Più in là Così facevamo sempre Così volevo continuare No no ma tu dopo gara Sparisci sempre Devi sempre ancora pedalare Dopo gara dobbiamo montare in pullman Tornare più velocemente in hotel Perché poi ci sono i massaggi Domani c'è un'altra etapa E litigavo sempre Litigavo sempre con i miei direttori sportivi E guarda caso Oggigiorno vediamo i ciclisti Dopo le tappe A pedalare sui rulli Perché molto spesso Diciamo non abbiamo condizioni Di fare questo cosiddetto Deofaticamento Che serve al cuore Che serve Cioè fermarsi bruscamente Non è salute Lo sappiamo Quindi dando tutte queste attenzioni Mi ricordo Ora abbiamo il mondo tecnologico In cui probabilmente Ci sono altri metodi Noi Ogni mattina Ogni mattina Alle sveglio Misuravamo i battiti Battiti A riposo Battiti poi Il venti Esatto Subito Dopo un minuto Di nuovo Diciamo dopo un minuto di riposo Di nuovo il battito Il battito doveva ritornare 40 42 Ok Se Diciamo così Ci sono delle anomalie Questa è il primo Prima indicazione Che C'è affaticamento Affaticamento Del cuore E Quindi Oggigiorno È un po' diverso Oggigiorno ci sono I vari misuratori di potenza E altri lavori specifici E tante volte Un atleta Non che sono nostalgica Del passato Però Eravamo molto più Sotto tutti i punti di vista C'era meno social Quindi C'era più rapporto umano C'era meno tecnologia Ma Di conseguenza C'erano i diari Dove Con la mano scrivevi Segnavi Ogni battito Segnavi tutte le sensazioni Le analisavi E cercavi di Proprio Capire Capire il tuo cuore Sotto tutti i punti di vista Capire Quello che dice Dicono le tue sensazioni Capire E avere Diciamo Questa Una fortissima Sintonia Con il proprio corpo Che è il primo indicatore In seguito Poi ci sono i dottori Medici In seguito Vai da dottore E dici Guarda Mi sento così Così Cioè Battiti non si alzano Io Non ho tolto mai Il cardiofrequenzimetro Da quando è stato Diciamo Da quando è stato Inventato Perché prima Nel 1985 Durante allenamenti Battiti Allenatore Si avvicinava Con la macchina E diceva In dieci secondi Contate il battito Quindi noi Con una mano Contavamo il battito 120 130 Perfetto Se è troppo alto Fermarsi Fermarsi Sempre salvaguardare il cuore E credo che Tutto questo Mi è entrato Talmente dentro Talmente dentro Che Ho pensato Che la vita Non finisce Con lo sport Poi Lo sport È una parentesi breve Poi la vita Continua La vita continua E voglio Vivere la mia vita Con il cuore sano E' chiaro Che tutto Mi ha girato Anche tutto bene Perché Diciamoci La verità Lo sport agonistico Non è salute E Sono sport Eccessivi Sono E parte l'applauso Sono torture infinite E E in quei momenti Diciamo Quando stai Per Sei vicino al sogno Doresti qualsiasi cosa Cioè Non pensi Salvaguardare il cuore Però Appena sceso dalla bicicletta Sì Durante inverno Sì E In tutti gli allenamenti Sì Quindi Credo E Invito tutti gli atleti Di dare tantissima Cioè Di dare del lei al cuore Di avere Quasi paura Timore Rispetto Tantissimo rispetto Del cuore Che poi È il nostro È il nostro È il nostro Motore È il nostro Diciamo È il nostro lavoro Ecco Il nostro futuro Edita In questo Tutto questo C'è Una Darsi Del Lei No Del rispetto estremo Ma Hai parlato Hai detto L'allenatore Il direttore sportivo Tutto al maschile Una donna O comunque il ciclismo Al femminile Non eri l'unica Avevi le avversarie Però in un mondo Al maschile C'è differenza C'è un'enorme differenza Non fosse altro Alcune atlete Parlo Di Federica Pellegrini Per esempio Una grandissima Campionessa Ha sollevato Il problema Del ciclo Ha sollevato Il problema Degli ormoni Di un problema Di no Di una situazione Che a livello Femminile Bisogna vivere Con assoluta normalità Chi al ciclo Non è malata Non può smettere Di allenarsi E non può neanche Tirarsi Chiamarsi fuori Da una gara Agonistica No scusate Rimandiamola Sì sì Esattamente così Esattamente così Il ciclo Fa parte Della vita E quindi Sì Non Non doveva Compromettere Il rendimento Però poi In realtà Ogni 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 Atleta è diversa Ogni atleta è diversa Quindi Ci sono atlete Che avevano I dolori Insomma Il corpo gonfia E via via Però Siamo donne Dobbiamo convivere Anche con questo E certo La consapevolezza Invece Edita No Anche in quei momenti Era perfetta Ogni volta Ogni volta L'abbiamo vista In quelle immagini In quel video Bellissimo Con immagini sporche Bianche e nero Colori che si Sovrappongono Edita Ha un sorriso Incredibile Magari arriva Da una prestazione Sotto la pioggia Gran premi della montagna Fatica incredibile Corso il riso E va a cercare Il pubblico E va a cercare L'applauso Questo è bellissimo Sì 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 Rapporto Con il pubblico Rapporto Con 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 le persone Perché poi Fondamentalmente Corriamo anche Per questo Per Provare emozioni E per regalare Emozioni Perché Poi In fondo Si chiude La carriera Si chiude La carriera Sportiva E Se C'è Se Diciamo Siamo riusciti A seminare Qualcosa E lasciare Delle emozioni Dentro Chi ci vuole bene O chi ci segue Abbiamo Anche queste Sono le vittorie Ecco Quindi sì Assolutamente Sì Applauso Grazie Bellissime Le relazioni Emozionante